Siamo in quattro, siamo in cinque e tutti noi abbiamo il nostro compito. Avete anche un nome come gruppo? Sì. Come vi chiamate? Il nostro nome è Comma 27. Comma 27, avete anche un sito internet? Allora, il sito internet ci stiamo lavorando. Certo, lo state facendo col murale. Ovviamente, lo stiamo costruendo. Abbiamo una pagina Facebook dove di solito... Comma 27. Comma 27 Design. Ma perché Comma 27? Diciamo che il nome è nato così un po' a caso, come dicevo prima, tanti anni fa. Di conseguenza poi negli anni si è sempre più... si siamo sempre più riconosciuti in quel nome. Che inizio cos'è, Comma 27? Assolutamente nulla. Semplicemente... Il significato forse principale è quello del 27, che è un po' il... con arroganza, ovviamente, il 3 alla terza. Quindi la perfezione elevata alla perfezione. La perfezione! Ma giusto un filo di falsa modestia? Nella modestia non si va da nessuna parte, no? No, l'obiettivo è raggiungere quel livello. Poi, dopo 14 anni, noi ovviamente ancora non siamo arrivati a quel livello. Com'è l'eccellenza? No, la... Com'è la definizione della terza? Il numero perfetto è elevato al numero perfetto. La perfezione nella perfezione. La perfezione nella perfezione. Vediamo alcune altre opere perfette. Qui siamo a Miami? Questo è Miami. Questo è sempre il Barracuda Bar. A fianco abbiamo dipinto. Un bel locale. Questo non è a Santero. Questo si deve essere in Florida. Sì, sì, sì. Bello, bello. Sì, anche questo naturalmente sul vetro. Questa qui è la Jaggi che ci ha commissionato il lavoro. Queste l'hanno utilizzato nello stand a Palazzo Pitti a Firenze. Eh, sì, perché qui c'è lo sponsor, eh? Sì, sì, sì. Per la mostra, la loro esposizione di abiti. Allora, hai visto Roberto che voi lo fate anche per guadagnarci? Ma non tanto. Non tanto. Ma più per la gloria. Più per la nomea forse che per... Va bene, perché lavoro dopo lavoro, poi vi fate un nome giustamente, poi avete sempre più committenti. C'è sempre almeno un rimborso spese, un... Almeno un rimborso bombolette. Esatto, esatto. Vediamo qualche altra foto, qualche altra opera d'arte, poi parliamo anche dei ferri del mestiere. Sì, ok. Questo qui è al Jamaica Pub di Sanfrem, provincia di Cuneo. Abbiamo dipinto la faccia di questo ragazzo, contornato con le torri di Guadalampur e il Cristo di Rio. È un locale giamaicano, di conseguenza l'abbiamo poi adornato con le palme, eccetera. Ah, qui c'è Rio de Janeiro. Esatto, sì, sì, sì. Guadalampur che è, dove? Dov'è Guadalampur in Indonesia? In Indonesia, sì, sì, sì. Ah, quindi è un po' un frittoministo, però affascinante. Il committente ci ha chiesto questo, noi abbiamo realizzato quello che il committente ci ha... Il cliente. Il cliente. Ha sempre ragione. Ha sempre ragione. Ovviamente. Vediamo qualche altra opera d'arte, perché è davvero interessante. Ah, questa... Questa cosa è in cielo? Esatto. Sì, beh... Insomma, dichiarazione d'amore. L'effetto è quello. Questo è stato l'ultimo lavoro, il penultimo lavoro che abbiamo fatto per il comune di Cambiano. Abbiamo dipinto il sottopassaggio ferroviario e abbiamo ricreato il viaggio dantesco della Divina Commedia. Ah, adesso...